Buongiorno a tutti, sono il dottor Valentino Vellone, sono dirigente medico in chirurgia maxilofacciale all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. È un piacere innanzitutto essere qui questa mattina perché per un duplice motivo, innanzitutto siamo qui di persona per la prima volta dopo circa un anno e mezzo di pandemia, quindi è un piacere ritrovarsi di persona con amici e colleghi e in secondo perché parliamo di un argomento, vi parlerò di un argomento molto interessante dal punto di vista del nostro reparto, un argomento su cui abbiamo puntato molto, ovvero le malformazioni maxillomandipolari che interessano il distretto facciale. Negli ultimi anni soprattutto abbiamo avuto notevoli progressi dovuti grazie alla tecnologia, soprattutto nell'ambito della programmazione, con chirurgia splintless, quindi senza riporrere ormai a splint, quindi con placche già preformate. Un argomento su cui abbiamo puntato molto, ovvero le malformazioni maxillomandipolari, quindi del distretto facciale, su cui soprattutto negli ultimi anni c'è stato un notevole progresso, soprattutto per la programmazione e per la creazione di placche customizzate, quindi custom made adattate proprio specifiche sul paziente. Vi ringrazio.